Ultima parte di Buongiorno con noi in questo venerdì 6 giugno 2014, guardiamo l'apertura di Repubblica, la prima pagina di Repubblica, alto tradimento per i politici corrotti. Questa è la stretta di Renzi dopo il caso veneziano del Mose, a proposito sulle tangenti Mose, falsificata perfino la relazione della Corte dei Conti, così scrive Repubblica. E poi la notizia che già abbiamo affrontato sul Corriere, la svolta della BCE, tassi negativi e Draghi, il Presidente che annuncia, non finisce qui. All'interno di Repubblica si parla anche del vertice del G7, in particolare fra le cose più importanti dedicato anche alla vicenda russa, svolta sull'energia, stop alle dipendenza dalle forniture russe. Obama che dice sanzioni se le provocazioni proseguono, ma il leader del Cremlino torna sulla scena a Parigi. I paesi del G7 sono uniti al fianco dell'Ucraina, dice il Presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso, al termine del vertice di Bruxelles. La minaccia è proprio quella che i paesi del G7 sono pronti a imporre costi addizionali sulla Russia. E il Presidente Obama ha anche esortato gli alleati del G7 a seguire l'esempio degli Stati Uniti sul taglio delle emissioni inquinanti. Un altro tema comunque davvero importante. E a proposito della vicenda russa, il premio Nobel Lec Valesa in Italia, Repubblica ha realizzato un'intervista, Putin sbaglia tutto, dice servono 20 saggi per convincerlo a lasciare l'Ucraina, l'Europa è malata ma può guarire. Questa è l'intervista a Lec Valesa, se vi interessa potete leggerla ovviamente su Repubblica. E poi questa notizia davvero molto particolare che sta facendo il giro del mondo, serve più spazio per le nuove città, così la Cina abbatte 700 colline. Il governo dice che l'unica soluzione è per rilanciare l'economia, ma gli scienziati avvertono sarà una catastrofe, è una catastrofe. Sostanzialmente appunto hanno bisogno i cinesi di spazio e quindi sono pronti a demolire 700 montagne creando 250 chilometri quadrati di terreno pianeggiante. In particolare nella mitica Yan, culla della rivoluzione nello Shaanxi, l'obiettivo è raddoppiare la superficie produttiva recuperando 78 chilometri occupati dai rilievi. Quindi davvero se pensiamo a una cosa del genere possiamo anche capire la polemica e la presa di posizione da parte degli scienziati. Perché insomma spianare le colline e le montagne è un'impresa titanica, ma i cinesi sono pronti a compierla. Torniamo alle vicende di casa nostra. Prima di parlare di sport vediamo la Gazzetta di Lucca, l'altro quotidiano online che ogni mattina vi proponiamo. L'apertura è dedicata a una vicenda che sicuramente farà ancora discutere nelle prossime ore. Mancano classi per gli iscritti alla Carducci, genitori sul piede di guerra. Praticamente i genitori degli alunni iscritti alle future classi prime della scuola media Carducci nel centro storico di Lucca sono inferociti perché non sanno ancora se i propri figli regolarmente iscritti potranno frequentare davvero l'anno scolastico 2014-2015 all'interno dell'istituto. Perché? Perché la scuola aveva fatto richiesta per allestire 10 classi e invece dall'ufficio scolastico provinciale la risposta è arrivata no, dovete allestirne 8 ma con tutti questi iscritti appunto sarebbero formate classi da 27 ragazzi, da 27 bambini, sarebbe davvero impossibile gestirle. Vedremo che cosa succederà nelle prossime ore. E poi l'altra notizia che abbiamo approfondito all'inizio di Buongiorno con Noi, lotta all'evasione fiscale. Oltre 18 mila abitazioni nel Mirino, i controlli saranno effettuati tramite incroci di banche dati. In autunno sarà pronta la lista dei furbi o inconsapevoli che poi dunque dovranno sanare la loro situazione. Andiamo allo sport, partiamo dallo sport nazionale, quindi il titolo della gazzetta dello sport. Diamo gli fiducia, ovviamente si parla della nazionale e in particolare di Prandelli che nelle ultime ore è finito sottotiro anche dopo il pareggio dell'Udente contro il Lussemburgo. L'Italia è partita per il Brasile con un carico di dubbi dopo l'1-1. Il modulo con i due play, Pirlo e Verratti, non convince anche qualche giocatore, ma il commissario tecnico, scrive la gazzetta, è deciso. Intanto il ranking FIFA sentenzia, il nostro è il girone più duro. Qualcuno già l'aveva detto e qui è arrivata la conferma. Vediamo se sarà un alibi oppure anzi uno stimolo in più per gli azzurri. E poi in primo piano, ovviamente in questa fase, in questo inizio di giugno, il calcio mercato. Juve Guarin via libera da parte dell'Inter, solo però con contanti. 18 milioni vogliono i nero-azzurri. Tohir ripiana debiti per 200 milioni e si prende il 70%. Ora servono i fondi per il mercato. Per quanto riguarda Ranocchia, il difensore che era dato molto vicino alla Juventus, invece si va verso il rinnovo. Juventus, che oltre a essersi interessata per Guarin, starebbe preparando anche l'assalto a Sanchez, giocatore attualmente in forza al Barcellona, ex dell'Udinese. Lo ricorderete sicuramente. Siamo allo sport locale, in particolare al calcio, ai colori rossoneri della Lucchese. Gazzettino Argento, che vale oro. Consegnato da Pulta Tarantino, il premio messo in paglio dal sito online gazzettalucchese.it Ovviamente c'erano anche le nostre telecamere, perché anche NoTV in qualche maniera è stata vicina a Gazzetta Lucchese in questa stagione. Allora vediamo il servizio con questa bella cerimonia di premiazione, con la presenza di tutti i giocatori rossoneri. La loggia dei mercanti, il nuovo Pult di Lucca, ha fatto da cornice d'eccezione alla settima edizione del Gazzettino d'Argento, il premio di rendimento che ogni anno gazzettalucchese.it mette in palio tra i giocatori rossoneri che hanno ottenuto le medie più alte durante il campionato. Questo naturalmente secondo l'insindacabile giudizio dei quotidiani che seguono la lucchese. Quest'anno l'ambito titolo e la targa del vincitore, consegnata da Michele Tambellini e Luciano Nottoli, è andato a Nazareno Tarantino, che con un voto medio di 6,7 ha superato la concorrenza. Vicenissimo Elia Chianese, al secondo posto con 6,67, seguito a sua volta da Matteo Nolè, che ha chiuso la stagione alla media di 6,63. Tra i premiati anche Guido Pagliuca, il professor Riccardo Guidi, Bruno Russo, Pier Giorgio Tognetti, è un premio speciale con la targa di Noi TV e Gazzetta, è andato anche ad Emanuele Loguzzo, infaticabile a detta stampa della lucchese, riferimento per tutti i giornalisti locali. Alla settima edizione, la più bella del Gazzettino d'Argento, hanno collaborato numerosi sponsor e giornalisti lucchesi di tante testate, che hanno presenziato in gran numero alla serata, con le eccezioni di Diego Checchi e Guido Casotti, alle prese con qualche acciacco, a cui è andato un applauso e il saluto di tutti i presenti. Intanto, sempre a proposito di Lucchese, scrive gazzettalucchese.it, c'è l'attesa per il CDA Rosso Nero, venerdì di cene, ma anche di CDA, scrive la giornata che segnerà l'inizio di questo fine settimana, sarà caratterizzata appunto dal CDA. Il presidente Bacci dovrebbe sciogliere alcuni nodi riguardo al budget, ma anche ad alcune scelte strategiche. Lo stesso direttore generale Giorgio Rosadini, leggiamo, ha ricordato come la Lucchese, stia lavorando ma senza via libera del CDA non si muoverà foglia. E dunque qualche malumore, così si legge su Gazzetta, sembra muoversi, ma questo consiglio di amministrazione dovrebbe spazzare via ogni dubbio. Fra l'altro, su questa situazione un po' di stallo, si esprime nel punto sulla Nazione, anche Emiliano Pellegrini, troppo silenzio e le scadenze ora incombono, scrive Pellegrini a pagina 7 del QS della Nazione. Oggi ci sarà ufficialmente anche lo sciogliere delle righe dei giocatori, ma a quanto si sa i colloqui con gli elementi per gli eventuali rinnovi non inizieranno prima della metà del mese. E dunque Lucchese che sembra per il momento stia un po' perdendo terreno anche rispetto ad altre avversarie di Lega Pro. A proposito di questo argomento c'è la notizia importante che riguarda il Viareggio, Viareggio che si iscriverà al campionato, le assicurazioni del presidente Linelli dopo un incontro in Lega. Possiamo anche proporvi, non so se la regia lo può fare, ma credo di sì, il post su Facebook che ieri il presidente Linelli ha proprio pubblicato sulla sua pagina. E da qui poi chiaramente la notizia che è stata riportata da tutti gli organi di informazione. Eccolo qua, ringrazio Matteo Bedini. Regia Stefano Linelli che ha proprio detto Vorrei tranquillizzare gli splendidi e passionali tifosi perché è grazie a loro anche che il Viareggio si iscriverà al prossimo campionato fino a che c'è un cuore che batte non può esserci il cadavere. Dunque un po' di incertezze sul futuro societario anche se il presidente ha detto che a breve la società passerà di mano quantomeno arriveranno forze fresche incertezza sul futuro tecnico ma il presidente ha assicurato comunque il Viareggio si iscriverà alla Lega Pro. E sempre per il calcio sulla Nazione questa notizia che riguarda lo storico torneo delle contrade di Petrasanta Antichi Feudi, ma che bella sorpresa lo Strettoia finisce in un vicolo cieco Antichi Feudi che ha battuto appunto lo Strettoia per 2 a 1 le reti segnate da Marzili, Mucca e Lamartina torneo che sta entrando nel vivo molto seguito in Versilia Vi avevo promesso un aggiornamento che riguarda il rally il rally di Sardegna quarta prova del campionato italiano ieri sera infatti si è corsa la prima prova speciale prova speciale Città di Cagliari poco significativa perché un chilometro e trenta dunque davvero più che altro una passerella per gli atleti, per i piloti al via la vittoria a Umberto Scandola al secondo posto basso a due secondi e poi Andreucci a due secondi e due Nucita al quarto posto a due secondi e sette dunque davvero scarti bassissimi ma con un chilometro e trenta da percorrere era inevitabile si comincia a fare sul serio oggi pomeriggio alle 16 e 12 con la seconda prova speciale oggi si correranno in totale quattro prove speciali e poi domani l'ultima la Montelerno come già abbiamo annunciato nei TG dei giorni scorsi molto dura perché pensate lunga 59 chilometri ovviamente vi terremo aggiornati sul nostro sito internet e nei nostri telegiornali soprattutto perché ci è attesa per la prestazione di Paolo Andreucci prima di chiudere diamo uno sguardo su Google News se ci sono delle novità particolari dell'ultima ora in apertura rimane ancora in prima pagina la notizia e le decisioni di Mario Draghi che taglia i tassi ai minimi storici e non è finita qui questa è una dichiarazione che già avevamo letto sul Corriere della Sera e su Repubblica e poi la notizia che arriva invece la vediamo qua un'ultima ora che arriva dall'America dagli Stati Uniti a Seattle killer fa fuoco in una università morto uno studente ferite altre persone dunque l'ennesimo caso lo possiamo dire che si verifica negli Stati Uniti in una università queste le notizie principali fra le cose particolari una marea di migranti in arrivo migliaia verso le coste siciliane questo è un altro aggiornamento nelle prossime ore appunto potrebbero esserci nuovi sbarchi e continua dunque l'emergenza in Sicilia ma anche in tutta Italia visto che poi questi profughi vengono ospitati in tante comunità anche della provincia di Lucca chiudiamo qua buongiorno con noi l'informazione su Noi TV non si ferma perché se lo volete fra pochi istanti ritorniamo con la prima edizione del TG Noi grazie per il momento per averci seguito grazie per la visione